Spigolature dall'archivio e dalla biblioteca storica sulla figura di Sant'Antonio e sul convento a lui dedicato a Gemona. La presenza nell'archivio comunale di Gemona di numerosi documenti relativi a Sant'Antonio ha a che fare con la soppressione decretata dal Senato Veneto il primo giugno 1769 del convento francescano a causa dell'insufficienza delle sue rendite. Sicché già il 22 agosto di quell'anno i religiosi vennero caricati coi loro bagagli su 58 carri e ripararono a Feltre. Nel luglio 1770 l'arciprete Giuseppe Bini assunse la tutela religiosa della chiesa, eretta a succursale della parrocchia e ne perpetuò il culto con sarcedotti secolari. L'edificio conventuale, battuto all'asta, venne acquistato nel 1772 dal comune di Gemona per 800 ducati e i suoi beni mobili vennero acquisiti da tal Gaspero Saverio Sailer. Una parte della documentazione relativa ai beni del convento fu spedita a Venezia. Quella trattenuta a Gemona accrebbe un corpo documentale preesistente nel quale spiccano i due volumi di oltre 200 pergamene raccolte, incollate su pagine di carta probabilmente a cura dello stesso Bini e che datano dal 1288 al 1572. Sarebbe necessario staccare, stirare e conservare questi preziosissimi materiali in apposite cartelle antiacido per proteggere le scritture, consistenti per la maggior parte in atti notarili. In alcuni casi si sono conservati anche sigilli in ceralacca o pendenti come quello del doge Mocenigo. La successiva documentazione, su supporto cartaceo, ci porta fino al 1769. La parte libraria antica, storica e moderna, conserva il frutto del culto e degli studi su Sant'Antonio a Gemona. Tra gli altri troviamo un libro stampato a Padova nel 1655 con vignette esilografiche sui miracoli del Santo e un'edizione sulla vita del taumaturgo portoghese stampata a Bologna nel 1790. Di speciale interesse storico i documenti sulle celebrazioni tra il 21 e il 23 giugno del 1895, nel settimo centenario della nascita di Sant'Antonio, in preparazione delle quali a Gemona si organizzarono lungo tutto il mese iniziative pubbliche anche di carattere non strettamente religioso. Imponente fu soprattutto l'afflusso a Gemona dei devoti. La stampa dell'epoca parla di pellegrinaggi che iniziarono i primi di giugno, anche con treni a prezzi agevolati, e dei più poveri che vennero ospitati gratuitamente, le donne presso le scuole pubbliche e gli uomini nella caserma degli Alpini. Ecco ora qualche nota su quei giorni. L'alba desideratissima del giorno 21 finalmente spuntava e le feste si aprirono alle ore 4 e mezza del mattino con le allegre notte della banda del circolo di San Giuseppe che percorreva suonando le vie principali della città. Immaginatevi ora le denunce per disturbo della quiete pubblica. Il fatto saliente fu l'arrivo il 22 giugno del cardinale Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, che diventerà poi papa Pio X. Fra funzioni e festeggiamenti cala la notte e la folla dei forestieri è talmente enorme che Gemona pare un accampamento. I dormitori accolgono oltre 2000 persone e anche tutti gli alloggi pubblici e privati non bastano. Le piazze, i portici e i margini delle vie sono coperti dei pellegrini. E così finisce l'articolo. Conviene ringraziare Dio che il tempo fu buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.